Io penso che siamo spacciati nel momento in cui speriamo di cambiare il mondo. Credo che in quel caso lì siamo spacciati, perché il mondo non gliene frega una minchia di essere cambiato, né al mondo gliene frega assolutamente niente di crescere, di evolvere. Cioè la maggior parte delle persone fa finta di voler evolvere. La maggior parte delle persone, come ve la devo spiegare? Perché è una cosa che non è facile da comprendere se non avete un riferimento di tanti anni con le persone che potete vedere come cercano di evolversi e come poi evolvono per poi ritornare dove stanno prima. Sembra che l'evoluzione sia un po' un cerchio, un po' come la vita. Cioè noi nasciamo, muoriamo e rinasciamo e rimoriamo, rinasciamo e rimoriamo, rinasciamo e rimoriamo. La nostra cresce, la nostra evoluzione, cioè la nostra anima evolve in realtà con un concetto circolare, perché nasce, muore, nasce, muore, nasce, muore, nasce, muore. In tutto questo fa delle esperienze. Esperienze che però a volte ritornano, cioè esperienze che possono essere usate sempre che i condizionamenti esterni non ti abbiano condizionato così tanto che anche quelle nuove abilità ed esperienze non ti permettano di uscire da quella ruota, da quella quasi ruota del topo, quella ruota del criceto, che non è soltanto una ruota del criceto che si usa spesso e volentieri in indipendenza finanziaria, cioè di gente che corre, corre, corre per sta sempre nello stesso posto, ma è anche nella vita. Cioè c'è gente che sta nella merda, cresce, 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 per poi ritornare nella merda. Vuol dire che ne ha imparato un cazzo. Che poi all'anima non gliene può fregare meno, perché tanto lei ha tempo, no? Non essendo immortale, che tu esca da quella ruota in una vita, in dieci vite o in mille vite, non gliene può fregare meno. Lei si diverte, cioè fondamentalmente ti osserva quasi con compassione. E vede quello che fai, nella speranza che prima o poi capisci. Per cui siamo spacciati se speriamo di voler cambiare il mondo, se speriamo di voler cambiare gli altri, se speriamo di voler migliorare questo mondo. Secondo me la speranza inizia ad esserci nel momento in cui... Passatemi il termine, passatemi il colpo di tosse perché ci sta tutto, perché... è una riflessione che mi è venuta proprio oggi, guardando come tante persone fanno finta di voler crescere, ma in realtà cambiano soltanto strategia per ottenere gli stessi bisogni dell'ego. Vi do quest'altra perla. Ricordatevi, questo è fondamentale, che qualunque cosa imparate voi, la impara anche il vostro ego. Quindi, non è che questo flow lo state seguendo soltanto voi, parte profonda, voi, parte spirituale, voi, parte animica, voi, parte... quella che volete. La sta seguendo anche il vostro ego. Ego che... nasce, ricordiamoci, per allontanarsi dal dolore, per allontanarsi dal dolore si è generato dei bisogni, bisogni che devono essere soddisfatti, se non l'avete visto, guardate il video su bisogni del salto quantico, guardatevi tutto il salto quantico, e soprattutto il video sui bisogni. Quindi l'ego, che come scopo nella sua vita è quello di tenervi lontani dal dolore, e se poi ci riesce a avvicinarvi al piacere, deve soddisfare sti cazzo di bisogni per allontanarvi dal dolore. Detto ciò, quando voi seguite i flow, o studiate qualcosa di nuovo, lo impara anche lui. Quindi, se voi imparate a usare un nuovo strumento, lo impara anche lui. Cosa vuol dire questo? Che, se prima, e di questi nuovi qua, poi soprattutto ne vedo a Iosa, ne vedo di gente, quante ne volete. Vi faccio l'esempio classico. Se prima, il ragazzo di turno, deve, ha come bisogno, quello di, per sentirsi figo, e per non sentirsi un idiota, e per non sentirsi un insicuro, e per sentirsi di valore, ha bisogno di trombarsi quante più donne possibile. Questo è il bisogno. Quindi, il dolore è, io non esisto, io non valgo. Il bisogno è, se vengo accettato da tante donne, io valgo. Come faccio a capire se vengo accettato da tante donne? Se me la danno, e gli piace, io valgo. Ok? Faccio proprio lo schemino classico. Questo è l'obiettivo. E che, qui ce ne stanno tanti, ne vedo tanti, ce ne conosco pure. Detto ciò, che cosa succede? Prima, viveva nel mondo occidentale, e, per ottenere questo obiettivo, che ne so, andava in palestra, se gonfiava, andava in discoteca, faceva il figo in discoteca, e, e usava approcci da discoteca. Nel momento in cui, cambi luogo, e vieni in un posto dove, che ne so, si fa yoga, si fa le, le meditazioni, spirituali, si fanno, mille altre cose, capisci che, quella strategia, non funziona più. Quindi, non è che tu qui diventi spirituale, perché stai in un posto spirituale, o perché ti sei elevato, no, è che qui, l'ego, deve trovare una nuova strategia, per poter ottenere, un vecchio obiettivo. Quindi, qui, gonfiarsi, e fa il figo in discoteca, quando c'hai di fronte, una che sta facendo yoga, che va, che ha il terzo occhio, qui, quello indiano, e va vestita, tutta, hindu, e non è che poi fa il figo, e di andiamo a ballare, yeah, va, famo una lambada, no, devi fa finta di essere spirituale, devi vestire bianco, essere preciso, cominci a parlare di energia, diventi vegano, fai finta di essere vegano con lei, non sai che energia, mi entra il terzo occhio, l'intuizione, e cominci a parlare di essere stronzata, cioè, stronzata perché le stai usando, non perché ci capisci, magari, quelle cose che hai imparato, che potevano servire a te per evolvere, non le usi per evolvere, ma, le usi per ottenere un vecchio obiettivo, con una nuova strategia, quindi, è interessante questo, perché, il, l'ego impara con voi, attenzione, attenzione, quando, siete convinti di stare evolvendo, quando in realtà state soltanto cambiando strategia, per ottenere un vecchio obiettivo, questa è interessante, questa è la perla di oggi, questa è la perla di oggi, fate molta attenzione a questo, perché, spesso e volentieri, è un problema che, è una cosa che ho, che ho visto spesso, ok? a presto a tutti,